Vi ho convocato entrambe perché la questione riguarda tutte e due voi. Allora, lo ribadisco, io e questa non abbiamo nulla che ci unisce. Come si chiama sto coso? Paolo. Paolo! Paolo Giugno. Ecco perché andava sempre in cima. Senti, coca, e metti sti quattro fiorellini su. Ma perché non ho mai detto che mi dà molto fastidio quando mi chiami coca? Va' vero, coca? Papà, ti ho mai parlato di me? Mai. Papà non ti parlava mai di me? Solo di quell'altra. Tu devi condividere le tue cose con gli altri bambini. Non ti fa fregare dagli altri ragazzini? Questa è roba tua. Scusami, Paolino, ma che ti ha colpato il cellulare? Sì. Sì? Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Paolino, scusami, ma non ti vedevo. Ma guarda, il ragazzino con me sta una favola. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. Altro che gallette di riso e Oliver Spiegel. Vedo che ti sei fatta il fai boi, carruccio. È un artista. Sei artista? Ce ne stiamo occupando congiuntamente con un rapporto basato sulla civiltà. Gli ho comprato le mutande, so 40 euro la metà. 40 euro di mutande? Beh. Vedi, avevo detto braccino corto.